Io sono Alessandro d'Aquila e questo è Marcello Giallo, l'opera che porto per i tratti contemporanei. In realtà tutto il mio lavoro si basa sulla concezione che al giorno d'oggi la comunicazione non dà tempo e non dà spazio a riflessioni, quindi bisogna comprimere il più possibile la descrizione di un oggetto, di un volto, di un paesaggio e rappresentarlo solamente con forme sintetiche. Per questo realizzo ritratti sintetici in questo caso, ossia dei ritratti che non portano assolutamente nessun segno caratteristico della persona ritratta, in maniera del tutto paradossale, ma che cercano di farci capire un po' e cercano di farci immaginare riempiendo l'immagine con tutti i dettagli che vogliamo noi. Paradossalmente si dovrebbe riuscire ad arrivare, nel caso di un volto conosciuto, a capire qual è il soggetto ritratto.